Ciao a tutti ragazzi, oggi suonerò The Final Condom che sarà scritta da Juro nel 1986. Questa canzone è stata nel primo posto della classifica delle canzoni più ascoltate in 25 paesi. Spero che questa canzone vi piacerà e se vi piacerà mettete un bel like alla fine del video. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.